Allenamento doppio quest'oggi per il Napoli al Konami Center di Cassevolturno. Gli uomini di Luciano Spalletti preparano il match contro la Salernitana del prossimo weekend in attesa di capire se si giocherà sabato o domenica. Un'attesa che è diventata quasi snervante e che entro oggi avrà un epilogo definitivo. Se ieri sembrava praticamente certo lo spostamento a domenica, nelle ultime ore sembra tornare ad avere qualche possibilità anche il sabato. Senza la contemporaneità eventuale con la gara Interlazio, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto una soluzione d'emergenza alle autorità. Aprire domenica il Maradona ai tifosi con un maxi schermo a bordo campo con le immagini del match di San Siro, magari con la squadra azzurra anch'essa aspettatrice. Un'ipotesi l'ennesima che va ad aggiungersi a tutte le altre dei giorni scorsi, ma oggi finalmente avremo la soluzione a tutte le opzioni. Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive si esprimerà in merito alla vicenda nelle prossime ore. Intanto il comune di Napoli è pronto, che sia sabato o domenica il giorno prescelto, la città sarà letteralmente chiusa alle auto. Napoli diventerà una maxi-isola pedonale con stop alle auto dal centro a fuori grotta. Un varco dovrebbe essere organizzato all'esterno della Galleria Laziale per evitare che le auto invadano il lungomare. E lo stesso dovrebbe avvenire anche in via Marina per bloccare l'invasione di auto dai confini della provincia. Tornando alle notizie di campo, Luciano Spalletti ieri ha ritrovato Giovanni Simeone. Il centravanti argentino ha effettuato l'intera seduta di allenamento in gruppo e farà parte sicuramente del match contro i Granata. Notizie meno positive per Matteo Politano. Il ginocchio non ancora al meglio e l'ex a Sassuolo ha svolto un lavoro differenziato. Nessuna possibilità di rientro invece per Mario Rui. L'esterno continua le terapie dopo il brutto infortunio al piede.